ciao a tutti raga in questo tutorial vi farò vedere come rinnovare whatsapp gratuitamente potete andare su questo sito e scaricare questa applicazione allora io la apro qui dovete scegliere il paese nel mio caso italy qui mettete il vostro numero e qui mettete 35 e poi dovete mettere altri 13 numeri a caso poi fate old whatsapp login in ogni caso che il numero sia corretto o no vi verrà fuori sempre questa cosa quindi non spaventatevi che non succede niente dopo 10 minuti anche meno vi verrà il messaggio di whatsapp del che è stato rinnovato per un anno per questo tutorial tutto alla fine di questo video metterò un'immagine del rinnovo di whatsapp per farvi vedere che funziona veramente ciao e al prossimo video grazie a tutti